Alla prima non lo potevo dire, ma in realtà alle 11 del primo maggio avevo già detto che dovevo tornare qua. Però per ovvie ragioni, in conferenza stampa, queste cose qua non si possono dire purtroppo, capito? Però in realtà già alle 11 e mezza di sera io volevo tornare qua, non volevo nemmeno andare in vacanza, sincero. Dall'inizio del ritiro che stiamo provando a fare queste costruzioni dal basso, e niente, abbiamo fatto una mezza finita io e Mazzi, Mazzi è andata via, poi è venuta bene e siamo contenti. Stiamo vivendo da squadra in maniera molto leggera e in maniera molto seria. Oggi abbiamo fatto una partita dal punto di vista squadra, sia tecnico che tattico, molto bella secondo me. Abbiamo dimostrato di voler giocare a calcio e di sapere giocare a calcio. Per quanto mi riguarda la mia stagione, sai che sì, sarà una stagione sicuramente diversa, però non ho paura, non siamo qua per cercare di portare a casa l'obiettivo, non siamo qua per chiacchierare.